Sono 50 gli infermieri e gli operatori sanitari spostati dietro a una scrivania. A farlo sapere il Movimento 5 Stelle, che a seguito di diverse visite ispettive, susseguitesi nel corso degli anni, sono arrivati ad avere nel dettaglio nuove mansioni e dettagli sul caso. Si tratta di unità tolte ai reparti di geriatria, medicina e oncologia e da tempo impegnati nel gestire corsi di formazione al personale ASL, altri all'ufficio di prevenzione, altri ancora presso il consultorio e solo per citarne alcuni. Li chiamano imboscati e ora a risponderne dovrà essere il governatore d'Abruzzo D'Alfonso a seguito di un'interpellanza a risposta orale. Intanto parliamo di infermieri e operatori sociosanitari che hanno sostenuto un regolare concorso per fare quel lavoro nei reparti e quindi garantire quel servizio, fare anche i festivi e i turni. Ora questo è un problema gravissimo perché non solo carica di lavoro ulteriore gli infermieri che sono nei reparti a fare il loro lavoro e non ce la fanno più e non è giusto che si proceda in questo senso. La Residenza Sanitaria Assistita di Città Sant'Angelo che pubblica ha un problema di enorme criticità. 25 pazienti ricoverati, solo un infermiere, solo un operatore sociosanitario. Una situazione poco chiara per i 5 Stelle che attendono motivazioni sul caso alla luce di una varie volte denunciata carenza di personale, proprio in quei reparti e soprattutto si attende di conoscere il nome di chi abbia deciso quei trasferimenti. Chi ha vallato quest'operazione se ci sono delle responsabilità in capo ai vertici aziendali che hanno autorizzato quest'operazione. Qualcuno deve pagare. Se in questo momento, mentre noi stiamo parlando, ci sono malati nei reparti che hanno bisogno di più personale, e quel personale c'è, ma è parcheggiato negli uffici amministrativi e abbiamo ricordato anche gli uffici amministrativi quali sono, qualcuno deve pagare per quest'operazione.